La terza puntata di Voga Mercato con Fausto Sassi. Fausto, cosa è uscita questa settimana? Allora, da segnalare un movimento importante. Dalla borgata di San Terenzo, Andrea Callea passerebbe alla borgata di Canaletto, andando a rimpiazzare Alberto Ziniello. Non si sa ancora bene quali sono i motivi, però questa è la definizione nuova del Canaletto, Conte Nicola, Olmi, Bertacchini e Ziniello. Altri movimenti da segnalare sulle parti di Renera Azzurra e Tellaro. Il Tellaro sembra definire questo equipaggio con Calabrese, Maniscalco, Di Polito e Bertuccio. San Terenzo lo stesso cerca di allestire un equipaggio competitivo. E poi da segnalare il movimento sulla parte dell'erice e di stimare con questi vogatori. Diorgio Carara, Michele Nardini, Paoli e De Vincenzi. Sempre in via di definizione questi equipaggi. Poi gli altri equipaggi sono già definiti, abbiamo detto che Città di Mare, a Capovoga, a Carrara, secondo Remo Visto, terzo Campanella e quarto Matteucci. De Grazi è lo stesso, finito con Collucci, Attupo, Guidotti e Bella. Il CRDD è definito con Mencalci, Pizzarino, Comadoni e Alessandro Mori. Il Muggiano è definito con Alessandro Pio, Pugia, Calone, Acerbi e Pelosi. Il Fezzano lo stesso è definito con Riccardo, Luisa, Pucci, De Luca e Danubio. Problema al Porto Venere. Sembra che l'equipaggio sia fortissimo, però ci sembra ancora che ci siano dei problemi su un primo. Probabilmente sarà definito più dentro la prossima settimana. Vi aggiorneremo per questo. Secondo te, puoi aiutare del Porto Venere di arrivare alla fine? settimana prossima. Il Porto Venere è un equipaggio molto forte. Il Porto Venere ha Nicolini in Capovoga, Pennucci che è un esibitore della veloce, la Federici stesso sono jugatori molto vali, giovani, però tutto ruota intorno a Simone De Angel. Possibilità di risolvere questa situazione settimana prossima? Ci sono buone possibilità. Se riescono a risolvere sarà un equipaggio veramente forte. Ecco, invece ti voglio fare una domanda, è quella che domenica c'è stato che doveva essere il Paglio, sappiamo perché non c'è stato il Paglio, c'è stato il lancio della colonna ai caduti del mare, cosa pensi di questa cosa? Una cosa senz'altro positiva, senz'altro positiva, che se il ramarico è tanto, perché l'avvocatore, io poi il Paglio l'avvocato comunque rispettando tutto quello che è girato intorno, i problemi negativi, lo sappiamo, però come è ripartito il calcio, come sono ripartite altre manifestazioni, come l'altro la manifestazione premiera di Livorno, questo va detto, probabilmente è una manifestazione a livello agonistico anche, a livello agonistico, forse meno importante della nostra, però si è disputata. Diciamo che con un po' di buona volontà in più si poteva andare in mare, perché comunque alla fine sono quattro vogatori in mezzo al mare, tenendo presente tutti i problemi, magari rispettando a forte chi c'è. Grazie e alla settimana prossima. Grazie a te Patrizio. Grazie a te Patrizio.